Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Ellie e benvenuti oggi faremo i vincitori del giveaway aspettate che vi faccio vedere tutti i biglietti, oggi ci sono tutti i nuovi dei partecipanti poi io pescherò uno a caso e chi pescherà sarà il vincitore abbiamo Alex, detto anche Vinci, Sara, Emy, un'altra Sara, Camilla, Camilla, Jasmine, Noemi che non si vede molto perché lo mette a fuoco abbiamo Linda, poi abbiamo Rihanna e poi abbiamo Isa, un'altra Isa, quella del video ora li mischerò tutti, li girerò tutti, quando li girerò tutti, anzi lo faccio tanto a voi allora li girerò tutti, allora giriamoli tutti giriamoli tutti questo schifo, schifo addio, ce la faccio poi anche questo e poi qui in fondo io non l'ho visto adesso mi schiamo chiudo gli occhi aspetta che si ok ora li metto in una scatola li mettiamo dentro questa ciotola lo facciamo lo facciamo ok 601 ok qui ce n'è basta, sono tutti dentro ok ora un'occhio di occhi facciamo così col caglio preso il vincitore del giveaway è Sara suavi auguri ma se non avete vinto in questo giveaway i change the script potremmeno fare un altro giveaway e vabbè ciao e buona fortuna per il prossimo giveaway ciao ciao